no è diventato un pommonello sta prendendo tutti i giocattoli e li tira fuori dal box stefano lo chiama nino d'angelo no alexander non si buttano i giochini fuori dal box no non si fa no alexander non si fa deltino blu non si fa capito e nino d'angelo non si fa no johnny giallo no non lo butti fuori lo butti fuori no johnny giallo rimane con te perché tu gli vuoi bene porca miseria porca miseria ma che panciottina effettivamente i capelli sono come nino d'angelo ma come bellezza sicuramente no an è molto molto più bello